È vero che lei si è proposto per lavorare con Lino Banfi? No, io no. È uscita sta cosa sui giornali? No, io no. Assolutamente. Stiamo facendo il film. Quale film? Questo sì. Che film sta? Il regista è Sergio Martino, il coreografo, quello che sta manovrando tutto, sta organizzando tutto, è Carlo Maietto. Ma che film è? Questo non lo sappiamo. Cioè lei sta facendo un film con Lino Banfi? No, no, no. Cosa sta facendo? Non ho capito. No, io so solo che ci sono io. Ci sarà un'altra serie di attori famosi, ma non lo so chi sono. Non avete ancora fatto una ripresa? No, a primavera dovremmo ingomigliare. A primavera il primo film di Razzi? Sì. Lei sarà il protagonista? Penso di sì. Quindi a primavera inizia la ripresa. È una commedia all'italiana. Una commedia all'italiana con Razzi protagonista. Lei sognava di fare l'attore? Da ragazzo sì. Quando ero ragazzo sì. Ma si è proposto lei? No, me l'hanno proposto. Gliel'hanno proposto? E adesso quindi praticamente lei ha già il futuro organizzato. Ok. Ci provo. Un'ultima... Nel mio DNA è quello di cercare sempre di migliorare. Va bene, il film di Razzi ad aprile.